ciao a tutti sono massimo pulini un pittore uno storico dell'arte e ieri sera mi ha chiamato giampiero piscaglia l'assessore nella cultura del comune di rimini e mi ha chiesto di se volevo realizzare un breve video facendo vedere un po quello che sto facendo in questi giorni di arresti domiciliari non so quante di voi possa interessare che quel che faccio durante le mie giornate ma ho immaginato pensato di poter fare durante le imprese un po parlando e un po dipingendo uno dei dipinti che solitamente faccio in questo periodo sono dei dipinti legati ad un rapporto tra alfabeto e immagini e non so quello che mi riuscirà a venire in questo momento perché non sono tanto abituato a parlare dipingendo sono un pittore che scrive e questo mi ha portato talvolta a riflettere su altri pittori di secoli passati anzi per la verità ho incominciato a scrivere proprio per il bisogno di cercare di restituire di risarcire un po quello che il tempo ha tolto ad alcune figure di artisti spesso artisti legati anche alla mia terra anzi molti anni fa iniziai proprio studiando cagnacci centino cristoforo serra savolini e pittori romagnoli della diciassettesimo secolo alle mie spalle vedete tra l'altro quello che per me è un privilegio aver potuto acquistare anni fa un dipinto di che io ritengo sia di cristoforo savolini un pittore cesenate del seicento di straordinaria qualità che morì molto giovane non aveva ancora compiuto i 37 anni e ecco quello che sto facendo in questo periodo è proprio aver ripreso una un progetto lasciato interrotto negli anni in cui al posto di giampiero piscaglia facevo io l'assessore alla cultura per sette anni e mezzo mi sono occupato un po' di tutto quello che nel settore culturale Rimini produceva l'amministrazione di Rimini produceva e per cui essendo un lavoro totalizzante che non lascia molto spazio non invidio in questo momento Giampiero che ha a che fare anche un po' con questo disagio e questi allarmi continui credo però che gli operatori del mondo culturale possano nonostante la battuta d'arresto l'interruzione imposta alle mostre agli spettacoli ai concerti a tutte le iniziative Nell'esilio domestico che siamo tenuti ad avere io credo che tutti gli artisti e gli operatori del mondo culturale possono vantare un privilegio che è quello di avere un tempo a disposizione e la possibilità di riflettere anche su insomma sull'insensatezza di un mondo che va a volte troppo veloce e io ho ripreso come vi dicevo un progetto che avevo lasciato nel cassetto ed era quello di dedicarmi ai miei amati pittori del Seicento Cesenate Giambattista Razzani, Cristoforo Serra e Cristoforo Savolini sto scrivendo un libro, ho ripreso a scrivere un lungo racconto che spero diventi un libro e che cerca di ricostruire aggiungendo anche diversi inediti cerca di ricostruire le vicende ancora poco conosciute e mai raccontate veramente di questi tre artisti molto diversi tra loro Giambattista Razzani era un pittore tardomanierista formato sia a Milano un mestierante se vogliamo mentre Cristoforo Serra era invece un nobile di famiglia ma un nobile assolutamente anomalo scapestrato se si può dire un pittore che per sue stesse parole dipingeva per diletto e che non era mercenario di professione di professione per la verità faceva il militare e visse quasi 90 anni svolgendo verso la fine della sua vita un'attività pedagogica di straordinario valore e fu un pittore seguace di guercino, allievo anche se in maniera anomala di questo grande artista del Seicento con lui era a Roma nel 1623 e per tutta la vita porterà avanti uno stile che era molto vicino allo stile giovanile di Guercino quasi ricordando a Guercino stesso nell'arco di tutta la sua vita quello che lo stesso maestro aveva dimenticato abbandonato ad un certo punto della propria esistenza assecondando una crisi che mi ha incuriosito per lungo tempo un pittore irregolare, potente chiamava una pittura intensa, appassionata e calda che passerà invece, sto parlando di Guercino gli ultimi anni della sua vita la seconda metà della sua vita assecondando una pittura invece più devota e regolare potata di quelle irruenze che invece Cristoforo Serra, appunto questo nobile Cesenate che si dilettava di pittura fino ad età anche molto avanzate portò avanti e questo artista ebbe come dicevo una serie di altri allievi il più grande e il più importante dei quali è proprio Cristoforo Savolini l'autore dell'angelo che c'è alle mie spalle e Savolini che morì invece giovanissimo non sopravvisse al suo maestro morì a 37 anni nell'anno fatidico e terribile dei geni giovani una morte tragica, violenta una morte a cavallo morì andando a completare la committenza di un dipinto che gli avevano richiesto le suore di un convento pesarese andando a cavallo ed entrando nel convento non vide il ferro che teneva che era all'altezza della sua testa e che era uno di quei ferri che teneva stretto l'arco dell'entrata del convento ebbene, questo pittore è stato il talento il puro sangue il talento vero della pittura Cesenate del Seicento della seconda metà del Seicento un pittore che dalle opere che ha lasciato fa comprendere come avrebbe potuto diventare ne raccontano anche la fonte i commentatori poteva diventare uno dei massimi artisti della sua epoca un pittore di una potenza espressiva fuori dal comune che sta quasi a metà tra la pittura di Guido Cagnacci quella di Simone Cantarini e quella anche di Guercino che molto probabilmente, pur giovane riuscì a conoscere attraverso il suo maestro Cristoforo Serra ecco, sto cercando di raccontare la vita di questi tre artisti che si avvicendarono lungo l'arco del Seicento a Cesena e che meritano di essere studiati in maniera sistematica finora solo una importante mostra del 2004 ha raccontato le loro vicende anche se in maniera ancora piena di lacune di tessere che mancano ancora all'appello quello che sto facendo a partire da questi giorni è un lavoro lungo e non certamente rapido come può essere la realizzazione di questo dipinto che ho fatto davanti ai vostri occhi verrà portato avanti da me nei prossimi mesi ma speriamo che questa clausura obbligata di tutti noi possa finire presto ecco, qui ho da parte alcune lettere per alfabeto cirillico ne metto una sotto il dipinto e vi mostro quello che ho fatto in questi minuti di ripresa ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti